Il 15 di marzo la nostra nave Open Arms ha operato in un'operazione di salvataggio come molte altre nel Mediterraneo centrale, abbiamo ricevuto delle minacce da parte della Guardia Costiera libica, minacce di morte se non avessimo ridato indietro delle persone che avevamo appena soccorso, cosa che non abbiamo fatto e per questo probabilmente una volta arrivati a Porto abbiamo visto consegnarci degli avvisi di garanzia da parte della Procura di Catania e il sequestro della nave. Una delegazione dell'organizzazione non governativa catalana Proactiva Open Arms è stata ricevuta questa mattina a Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha aderito alla richiesta di dissequestro della loro nave definita in un comunicato congiunto come un mezzo di pace tra i popoli del comune mare. È stato presente noi di Proactiva Open Arms, io e il fondatore e direttore Oscar Camps, la sindaca di Padalona che è la città dove è nata l'ONG e l'euro parlamentare Miguel Urbain. Questa riunione è stata una riunione molto beneficiosa e siamo molto contenti dell'appoggio che la città di Napoli attraverso e rappresentata dal sindaco ci ha dimostrato e da qua abbiamo iniziato a pensare ad azioni dirette volte a difendere la solidarietà. A giorno d'oggi, quando stiamo vedendo che la solidarietà sta diventando un crimine, si sta creando un crimine di solidarietà contro persone e organizzazioni, da qua in avanti si prospetta una maggiore collaborazione appunto anche tra diverse città europee rappresentate inizialmente da città spagnole e città italiane e da oggi possiamo dirci veramente contenti per questo primo passo nella difesa dei diritti umani e diritti fondamentali dei cittadini e nella lotta contro appunto un reato che si sta creando su una base totalmente inverosimile, il reato della solidarietà.